Però se scavi in fondo, in fondo, se tu vuoi, il vecchio detto volere potere, per me è stato vero, perché magari sarebbe potuto essere un altro allenatore, altre società, però prima o poi sarei arrivato. E questo per me deve essere un messaggio chiaro per chiunque, ci devi credere, anche quando ci sono veramente delle avversità importanti, ma lo devi fare, in primis per te stesso e poi anche per chi ti sta intorno, perché comunque chi ti sta intorno fa sacrifici per te, quindi lo devi fare.